Sessanta, sinistra 360, sinistra 6 fornata a destra, sinistra 6 continua per cento. Sessanta, sinistra 4 salto, sinistra 4 salto, sinistra 4 salto, non tagliare. Salto, poi destra 4 lunga si restringe, diventa 360, destra 4 salto, sinistra 5 lunga, 100 discesa, appena tornata a sinistra. Sessanta, sinistra 6,5 gutta a destra, sinistra, Yahto, sinistra 8 monkeys breakuare. in sinistra 6 in sinistra 5 e sinistra 6 60 tieni la sinistra sul crinale 80 su appallamento tieni la destra sul crinale poi sinistra 5 non tagliare 80 destra 6 in curva stretta sinistra insidiosa in destra 5 continua con 150 salt sinistra 5 in curva stretta in curva stretta sinistra 60 in curva stretta in destra 4 lunga 60 destra 3 non tagliare in sinistra 4 in destra 3 si restringe e diventa 260 subito il 4 scannels 64 qui con non ma il ma si mor fa s In sinistra 6, indietro 660, destra 1. In curva e scusca 1 dopo il B. Sinistra 6, indietro 4 su piccolo glinale si restringe. In attenzione destra 1, discesa. In attenzione destra 660, destra 1, discesa. In attenzione destra 2, 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 discesa. No! Grazie a tutti. Grazie a tutti.